Benvenuti a 24 live, grazie per aver accettato l'invito per questa intervista. Oggi siamo insieme a Imma Venturo e Paola Perrotta e parleremo di prova costume e benessere, non solo fisico ma anche mentale. Oggi parliamo di un progetto particolare che ha impegnato Imma e che continua a impegnarla in una mission che è quella di aiutare le persone a superare un problema nefasto che è la bulimia. Questo saziare la bulimia non è solo un progetto ma è il titolo di un diario. Dico bene Imma, ci vuoi parlare un po' di che cos'è saziare la bulimia, come è iniziato questo percorso, quali sono gli obiettivi e come sta andando? Innanzitutto ciao Cristina, grazie dell'invito e grazie Paola per essere qui con me e per portare anche la tua testimonianza. Sono sempre molto emozionata quando mi chiedono di parlare del libro perché lo considero il mio secondo bambino e questo secondo bambino ha due anni e mezzo. Proprio l'altro giorno il mio editore mi ha mandato un messaggio dicendomi che si sta diffondendo bene il messaggio. L'obiettivo del libro era appunto questo. Il libro è un diario, il diario del mio percorso di cura. Io dal 2000 al 2001 sono stata ricoverata in un centro per disturbi alimentari a Potenza ed è nato un po' come un gioco, è nato come modo per rifugiare i miei pensieri perché non avevo ancora il coraggio di esprimerli apertamente e quindi scrivevo, scrivevo, scrivevo. Scrivevo dei fogli, dei fogli volanti che poi sono stati messi tutti insieme in quell'anno e riposti nel cassetto. Ogni tanto giocavo, dicevo ma diventerà un libro in modo che posso, potrò aiutare qualcuno. Però in realtà avevo paura perché lì c'era tutta la mia vita, c'erano le cose di cui mi vergognavo e c'era tutta la mia sofferenza perché di solito quando scrivi un diario non pensi che qualcuno lo debba leggere di regola. E poi invece nel 2017, la fine del 2017, ho iniziato a prendere in mano le redini della mia vita e ho deciso di tirare fuori questi fogli dal cassetto. E nel giro di sette otto mesi è diventato un libro, appunto, saziare la bulimia, il diario del personale del mio percorso editura. E da quel momento posso dire che è iniziato il tutto. Perché io pensavo di essere... È un racconto crudo quello che tu proponi al tuo lettore. Non hai ritoccato... Crudo è vero. Paola Perrotte invece che oggi è con noi... Ciao a tutti. Ciao. Grazie per essere qui. Prima di tornare a saziare la bulimia e raccontare il progetto, io ci tenevo in modo che tu facessi una piccola introduzione perché essendo una specialista della comunicazione, seguendo non soltanto il percorso di Imma, ma anche un po' quello che è la sua crescita all'interno dei media, vorrei che tu ci facessi un quadro generale su che cos'è. E dopo, magari, se ti va a parlarci della tua esperienza in prima persona, come chi frequenta i corsi di Imma, perché Imma è un coach. Ma che significa essere un coach quando si parla di bulimia? Allora, ti racconto tutto. Innanzitutto racconto la mia esperienza personale che secondo me può essere importante, poi quella professionale, come mi dicevi. Allora, io mi sono ammalata di bulimia, avevo 16 anni e ho vissuto due o tre anni abbastanza intensi con questa patologia, perché è una patologia, intanto è un disturbo. Quindi è importante innanzitutto riuscire a capire questo. Infatti nel momento in cui ho capito di aver bisogno di aiuto, perché purtroppo è un disturbo molto subdolo, perché come dici tu, come titolo anche la trasmissione, prova costume, ci si confonde, perché si pensa che la non accettazione oppure magari non voler sembrare non essere perfetta, eccetera, possa essere accettabile socialmente. Questo parte da una serie di problematiche col proprio corpo, però è un disturbo abbastanza profondo che colpisce l'anima, colpisce delle corde molto importanti, della propria personalità e quindi bisogna andare a fondo. Da soli non si esce, a meno che non si esce per finta, nel senso che si esce, si sopravvive, ma non si vive. Cosa significa non si vive? Significa che non si ha un contatto profondo, autentico e diretto con se stessi, con le proprie emozioni e quindi si creano una serie di problemi a se stessi e agli altri. Soprattutto se poi si fanno dei figli, una famiglia, quindi insomma si crea e poi si perde l'opportunità di conoscere, di vivere a pieno. Quindi la prima cosa che voglio dire come esperienza personale è veramente approfondire se stessi, fa bene a tutti, ma soprattutto a chi ha avuto l'opportunità, perché poi diventa un'opportunità questa difficoltà di poter approfondire, perché è necessità. Perché io mi sono trovata a un certo punto proprio con le spalle al muro, cioè mi sono trovata a dire io, ovviamente davvero testate al muro, che faccio? Che posso fare? Ecco, non prendersela con gli altri, inutile, perché poi spesso si entra nei genitori, colpa della società, ecco, partiamo, non è colpa di se stessi, ma partiamo da noi stessi, perché è l'unica cosa che possiamo fare. Questo è l'altro consiglio assolutamente. Per fortuna la mia situazione, non era, come dire, grave al punto da poter, da essere, come dire, da impedirmi di vivere la mia vita, però comunque sono andata a fondo con una terapia psichiatrica che mi è durata tre, quattro anni. E poi, ecco, da lì ho avuto gli strumenti per poter uscirne, per poter mettermi in gioco e imparare questo percorso che ancora continua, proprio di apprendimento, a vivere di conoscenza di se stessi. Quindi questo è più o meno la... io dicevo di non soffrirne più da molti anni, da oltre vent'anni, però c'era dentro di me quella cosa latente di non averla affrontata, cioè non è che ho avuto una diagnosi, come il cancro, sei guarita perché adesso hai la cosa pulita. Non sapevo, quindi quando ho visto il... anche io sono molto emozionata perché, insomma, comunque parlare di cose così personali, anche con te che conosco tanto tempo, è difficile. Infatti questa è una cosa molto, secondo me, positiva che fa bene, è terapeutica, parlare, raccontarsi senza maschere, insomma. E quindi, dicevo, quindi non avendo avuto poi un riscontro, volevo, tra virgolette, mettermi in gioco e vedere se effettivamente ero preparata, ero pronta, mi ero equipaggiata da bene. Sì, è vero che sono vent'anni che non combatto tutti i giorni con le strumenti di alimentazione, però tante cose rimanevano. E soprattutto nel... quindi in quel muro di vetro, no? Di non andare più avanti, di non osare, di insicurezza, di quel qualcosa in più che cerchi e che sai che potresti dare, ma non sai come. Quindi questi sono stati i motivi che mi hanno spinto a rispondere a questo annuncio online di Imma. E qua entro la parte professionale, perché comunque io, ecco, da molti anni sono esperta, una consulente di comunicazione in ambito salute e quindi ho questa forma mentis legata appunto ai percorsi tradizionali. Quindi, dico la verità, per me tutte le cose che sono un po' coaching, benessere, mi sembravano un pochino fuori dal mio reggito, dal mio ambito, ecco. Però non mi interessava, non li esploravo, perché sono... perché purtroppo la comunità scientifica poi spesso è molto snob, no? Quindi fa fatica a capire delle tecniche nuove. E quindi, niente, insomma, il suo approccio, mi ha convinto l'approccio di Imma molto semplice, mi viene in mente peer-to-peer, insomma, mi viene in mente molto basato sulla... Paola, diciamo la verità che siamo tutte e due campane, quindi c'era... C'era, capito, l'ambiente che ci univa, la territorialità. No, però a parte gli scherzi, veramente, secondo me, il punto di forza, quello che poi è il punto di forza di Imma è non stare sul piedistallo della psichiatria, non perché la psichiatria, però del medico, no? Del medico in camice bianco che ti sta diagnosticando un paziente, che ti fa sentire sempre un paziente. Hai perfettamente reso l'idea. Un approccio alla pari per il quale io vorrei chiedere a Imma proprio su questo, fare una domanda su questo approccio alla pari. Innanzitutto quanta forza ci vuole a trasformare qualcosa di veramente negativo nella vita, di un'esperienza così veramente brutta e profonda e poi metterla a disposizione dell'altro. Cioè è una trasformazione abissale, ma anche che va oltre. Cioè non trasformi solo in positivo il tuo diario, ma addirittura fai un'attività di coaching per le persone che ti incontrano. Quindi io ti vorrei chiedere qual è stato il processo, se è identificabile, che ti ha portato dal negativo al estremamente positivo e oltre. Quindi sei, tu hai completamente stravolto quello che hai vissuto. Oggi poi sono anche col camice bianco, ma non sapevo che avresti parlato di camice bianco, perché io comunque lavoro in ospedale. Non sono una psichiatra, non sono una psicoterapia, ma sono un osso in Svizzera. E quindi anche lavorare in ospedale con persone ha accelerato un po' tutto questo processo. Hai proprio individuato la parola giusta, si tratta di un processo che all'inizio è stato molto inconsapevole. E questa è la cosa fantastica. Mi chiedi se è identificabile. Fino a un anno fa no. Adesso poi da un anno all'incirca un anno fa, più o meno Paola ci siamo conosciuti un anno fa noi, era giugno-luglio, sì, forse settembre. Sì, era la fine dell'estate e io, diciamo, da maggio dell'anno scorso ho deciso di mettere nero sul bianco quello che già stavo facendo in maniera inconsapevole. Tutto iniziato dal libro, iniziato dal libro che per me è stata una rivalsa. È stato un modo per gridare al mondo in maniera silenziosa, quindi questo sembra un paradosso ma è così. Guardate che io ho una sofferenza all'interno. Nel momento in cui è uscito il libro io ho dichiarato di essere guarita, ma in realtà non ero ancora guarita. Il sintomo non c'era, il sintomo inteso come abbuffate o digiuni, di restrizione. Il sintomo non c'era, non era più come prima, si era molto indebolito, ma c'era tutto quello, come diceva Paola, tutto quello che c'è sotto, che viene fuori dopo, perché prima lo seppellisci sotto a chili di cibo, quindi vengono fuori dopo tutte le paure, insicurezze, credenze, tutti i limiti autoimposti, autoimposti perché ce li imponiamo noi, solo che questo è un processo inconsapevole. Quindi nel momento in cui è uscito il libro hanno cominciato a scrivermi persone che compravano il libro e mi dicevano io ho letto il tuo libro, grazie, mi sono identificata, grazie, mi hai aiutato a fare il primo passo, ho avuto il coraggio di chiedere aiuto, oppure mi aiuti, oppure mi... e ad un certo punto ho detto ma io non devo stare attenta perché essendo comunque una patologia non posso entrare in campi che non mi competono e quindi io cercavo sempre di portare la mia esperienza ma senza dare tra virgolette, mettiamolo tra le virgolette, una diagnosi, senza dare una una ricetta. Dicevo guarda questo è quello che ho fatto io, però eh attenzione vai da un medico, mi rivolgiti ad un esperto, parla con la tua famiglia, chiedi comunque aiuto, il primo passo e chiedere aiuto. Questo è andato avanti per un bel po' fino a quando poi, quando ho iniziato a fare le prime presentazioni, all'epoca si poteva ancora di presenza, quindi le presentazioni del libro, venivano comunque tante persone, mi fermavano e mi chiedevano, non erano tanti interessati al libro in sé, ma al messaggio ed è... e quello era l'obiettivo alla fine, ho iniziato a capire che il libro era un messaggio, era una calamità e quindi da lì ho iniziato a dire beh, io però mi sento un po' incoerente perché sì, ma non sono completamente guarita, anch'io ho ancora tutte le mie paure, allora lì ho iniziato a dire beh, allora è il momento di rimboccarmi le maniche e e mandare via questa questa bulimia e quindi ho iniziato a seguire percorsi alternativi perché la psicoterapia seguita per vent'anni e mi è servita tutta, cioè io non butto niente di tutto quello che ho fatto prima, però arrivava fino a un certo punto, arrivava fino a farmi capire il perché, perché mi ero ammalata. Andavo da un altro psicoterapeuta, facevo un percorso e arrivavo a capire il perché, ma il come liberarmi di tutto ciò, come accogliere, come metabolizzarlo, in realtà non me lo dicevano perché in realtà lo psicoterapeuta non ti deve dire quello che tu devi fare, cioè perché gli strumenti sono all'interno di noi stessi e questa è la differenza, quindi ho iniziato a cercare un approccio diverso e ho fatto vari percorsi di crescita personale, sia a livello listico che a livello scientifico e ho visto che man mano io stavo sempre meglio, mi applicavo molto, cioè c'è da dire questa cosa, nessuno mi ha detto tieni la pillolina, tieni la bacchetta, tieni la ricetta, sei guarita, assolutamente no, io mi sono fatta veramente un C, mettiamo puntini puntini ed è questo, da questa è nata poi la regola MIC che è diventata un po' la nostra, la nostra parolina, no? Regola MIC che qualcuno si offende quando io la uso? Non so se posso dire una piccola parolaccia, non so. Ma dillo. Ecco, la regola MIC significa muovere il culo. Allora c'è chi è motivato e quindi dice ok che devo fare? C'è chi dice ma come ti permetti? Chi ti dice che finora non abbia fatto niente? Quindi io ho contatto con tantissime persone e mi rendo conto che quando una persona risponde così non è pronta, non è pronta e quindi bisogna metabolizzare e lasciarle stare. E lì tutto il lavoro viene fatto all'interno del gruppo privato sazio della bulimia perché giorno dopo giorno, giorno dopo giorno si piantano i semini, si piantano i semini e un giorno legge un post, un giorno vede una testimonianza, anche questa che stiamo facendo adesso è un grande seme, è una grande testimonianza che dai disturbi alimentari si può guarire. Quindi il momento in cui mi sono, ho avuto chiaro che volevo aiutare le persone, quindi ho trovato il mio senso di scopo, la mia missione, tutti abbiamo un motivo per cui arriviamo su questo mondo, non arriviamo giusto per fare numero. Siamo come quella gocciolina dell'oceano di madre Teresa di Calcutta e la gocciolina diceva ma io sono una piccola gocciolina, ma cosa, a cosa posso servire? E madre Teresa di Calcutta disse ma l'oceano ha bisogno di te, di quella gocciolina. E così siamo noi, ognuno può dare il proprio contributo, c'è chi lo fa aiutando gli altri, c'è chi lo fa all'interno, anche una mamma può avere una missione, cioè non c'è un grado allora io aiuto mille persone, sono più importante di te, io se riesco ad aiutare anche una persona, per me è un successo. Quindi ho detto beh allora io devo mettere le radici a tutto ciò e quindi ho iniziato veramente a certificarmi e ho preso la certificazione del metodo ongaro che mi ha dato tutta la base scientifica, ho preso altre certificazioni, ho preso una certificazione in style coaching che tanti si chiedono ma che c'entra col disturbo alimentare? E invece c'entra perché io avevo messo da parte tutta la mia femminilità, avevo messo da parte tutto il mio amor proprio, l'amore per il mio corpo che non significa essere venali ma significa che io sono partita da lì per andare poi a vestire la mia anima. È un concetto veramente molto profondo che quando quelle persone sono all'interno del percorso comprendono perché poi il percorso è diviso in modulo è diviso in quattro aree. Infatti Paola è nell'ultima, cioè Paola ha quasi finito gli ultimi due moduli e quindi meglio di lei forse nel spiegare il percorso non può nessun altro perché lei e un'altra persona sono alla fine. Quindi si parte dall'esterno cioè dal proprio corpo per curare l'interno poi Imma va oltre ma Imma è il coach. Quindi questo questo percorso come avviene? Soprattutto Paola l'ambizione alla perfezione, sentirsi non abbastanza, vivere la propria costume come come una sofferenza. Questo può essere un rimedio e perché? E poi ti vorrei chiedere secondo te è possibile fare prevenzione? È questo che stiamo facendo noi cioè raccontare le testimonianze può essere inteso come un modo o c'è bisogno di qualcosa di più? Guarda sono tantissime domande, tutto interessante ci vorrebbe una. Allora, continuare di essere veloce e concisa. Allora il percorso, no si parte dall'interno per arrivare all'esterno. Infatti lo sa il coach che sono sicura che possa far abberrire una persona che soffre di bulimia e di rischio. Oddio basta perché è l'ossessione quotidiana persone che passano anche 5, 6, 10 volte al giorno che segnalano le calorie. Quindi oddio no pure un'altra volta no. Invece si parte dall'autostima per se stessi che è fondamentale l'amore per se stessi che non abbiamo e quindi tendere a migliorarsi la perfezione è proprio una brutta parola perché appunto la perfezione non esiste. Abbiamo bandita. Abbandiamola. Però fare tutto quello che si fa nella vita ma cambiando proprio il paradigma. Cioè non farlo per ambire ad un obiettivo, ad un modello ma per se stessi, per amore per se stessi e per gli altri. Però è vero. C'è proprio un senso di gratitudine, di accoglienza, di amore per se stessi che assicuro che non molte persone sperimentano e anche se non soffrono di disturbi dell'alimentazione. Specialmente nel mondo femminile. Adesso anche quello maschile però sicuramente c'è una sorta di, come dire, siamo un po' programmati, di problema culturale per il quale le donne devono sacrificarsi il proprio piacere. E da qua nascono veramente tanti problemi e tanti malintesi nella comunicazione, soprattutto con se stessi e poi con gli altri. Quindi amore per se stessi non vuol dire essere egoisti, non vuol dire non pensare agli altri, anzi, vuol dire riuscire ad essere intanto un esempio ma soprattutto diffondere gioia, energia e positività. Quindi far accadere cose. Quindi essere praticamente c'è un'energia nel mondo perché chi, come dici, si butta su se stesso, si ripiega e chi ha risentimento, chi ha rimpianti non serve. È come se fosse una larva, c'è questo simbolo della farfalla e quindi purtroppo rimane lì. Come purtroppo qualcosa che non riesce a sbocciare. In natura siamo fatti proprio per seminare, poi sbocciare, per bellezza proprio del mondo e poi sfiorire. Però dobbiamo dare questo contributo al mondo. Lo sentiamo noi, è nato, è genetico, dobbiamo dargli qualcosa. Se c'è qualcosa che non va, va alimentato, ma è annaffiato per poter crescere ed essere. E quindi sentirsi pienamente vivi. Ecco questo, un pochino il senso, senza entrare nella filosofia. Poi ecco la seconda domanda, mi dicevi prima della prevenzione e prova costume. Prova costume pure lì è un'altra tragedia, ma ecco partendo da questo cambio di paradigma, molto bello perché quello che è bello del percorso che mi colpisce è proprio questa semplicità che Imma esprime nel parlare come se fosse un'amica. A me sembra come fosse una mamma che ti dice proprio le parole giuste e quindi ti dice ma non ti sta preoccupare della prova costume, sei bellissima come te, ci sono tanti modelli di donne. Assicuro che questo tipo di cosa ad una persona che comunque porta delle ferite interne dovute a vari motivi che non sono da indagare aiuta. Anche una condivisione con altre persone. È un bel momento di sperimentare un confronto con le persone fatto proprio di amore e non giudizio perché poi comunque c'è anche un gruppo. Credo che questa sia una cosa, una modalità meravigliosa in tantissimi aspetti della vita, non solo per questo modello non è solo per la disturbi della bulimia, l'onoressia. Secondo me è bello per poter crescere in tanti ambiti, quello di uno scambio non competitivo ecco perché c'è molta competizione soprattutto negli ambiti lavorativi eccetera. Quindi questi due cambi dei paradigmi sono fondamentali. Terzo per la prevenzione sì sicuramente questa è la prevenzione. Parli di cattiva informazione. Io penso che non esista una cattiva informazione o buona. Penso che l'informazione da molti anni risponde alle regole commerciali. Quindi deve vendere. È brutto, non c'è etica però è così. E quello lì è il grande problema di fronte poi alla fragilità di una persona perché io ho sempre pensato che una persona forte si faccia condizionare fino a un certo punto, cioè forte equipaggiata fino a un certo punto ma se in famiglia se riesci ad ottenere una forte stima di te stesso sì puoi dire oddio non sono come la modella trentotto però ti fai una ragione e vai avanti anzi. E invece su quelle persone già fragili influenza molto. Però non potendo cambiare le regole del gioco commerciale cioè l'informativo forse va cambiata si deve lavorare sulla cultura, si deve lavorare sulla prevenzione nell'ambito familiare e nelle donne soprattutto ma anche uomini perché appunto adesso è cambiato. Io penso rispetto a vent'anni fa anche gli uomini sono fragilissimi su questo aspetto tra anche la palestra eccetera c'è tutto un lavoro da fare anche su di loro e quello là bisogna agire molto. Infatti Imma credo che stia lavorando e voglia in futuro anche fare qualcosa nelle scuole e con com'era con incontri prima l'idea era sì volevo ai tuoi centrato proprio a parte che mi sto emozionando Paola perché se voi vedevate Paola un anno fa era la diffidenza in persona abbiamo proprio parlato in quel giardino credo la prima volta e sentirla adesso cioè potrei pure finire qua nel senso che è emozionante sono veramente fiera di te Paola e detto ciò ritorniamo nella nell'intervista sì l'idea prima del covid era veramente un'idea che si stava proprio per realizzare era di andare nelle scuole e fare dei workshop eh con la presenza di esperti e parlare del disturbo alimentare e fare qualcosa anche di pratico non solo parole proprio anche fare un workshop poi è accaduto vabbè il covid e tutto e intanto le idee sono maturate sono cresciute si sono evolute e all'idea delle scuole si è aggiunta l'idea di andare nei corsi pre parto e nei corsi prematrimoniali proprio perché il tutto deve nascere prima che nasce la famiglia l'autostima va eh proprio iniettata no per rimanere in termini di di ospedale ehm come un vaccino rimanere in termini del periodo perché quando ci si sposa secondo me andrebbe proprio insegnato insieme a tutto quello che si insegna a infondere l'autostima ai propri figli perché senza non sono qui io sono mamma un ragazzo di 18 anni ad accusare i genitori però mh i figli vanno incoraggiati vanno vanno stimolati vanno sì anche eh sgridati usando il certo certi toni toni più duri quando è il caso ma l'autostima è proprio un elemento che io vedo che manca io mi confronto tutti i giorni con persone questo è un tema in presente in tutte le persone quindi corso prematrimoniale in modo che entrambi i genitori possano crescere insieme in autostima e creare una famiglia in autostima e poi nei corsi preparto qualora non fosse stato fatto nel 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 corso prematrimoniale io la trovo un'idea che secondo me può funzionare veramente bene sì sì assolutamente sì sì secondo me è geniale può essere davvero un un metodo di prevenzione concreto quindi magari se ci sono persone che hanno bisogno medici ostetriche lo diciamo qui così tutti lo sentono anche i preti anche i preti assolutamente bene ragazze voi siete state speciali davvero io vi ringrazio per essere state qui volete lanciare un appello per chi ci sta ascoltando vai paola io volevo parlare a chi se qualche ragazza un ragazzo in ascolto è liberato un pochino ha sentito che c'è qualcosa ma ha paura provaci almeno fa il primo passo perché vedi che basta poco poi in ma o quello che insomma anche molta persona non dico però insomma io credo che che valga la pena di provare e fai qualcosa per te vale la pena insomma grazie paola io volevo dire che quando si avvicina l'estate giusto per chiudere con il tema della prova costume quando si avvicina l'estate soprattutto maggio ehm proprio la parola prova è come se ci mettessi alla prova e per chi soffre di disturbo alimentare viene presa proprio ok vado bene ok sono perfetta come ho detto va la perfezione non esiste infatti l'ideale che io propongo è proprio l'ideale imperfetto quindi ehm visto che l'estate viene considerata il momento per iniziare le diete i prodotti miracolosi i beveroni tutto quello che abbiamo provato tutte io ti dico fa sì che sia un inizio ma l'inizio di un percorso per ritrovare te stessa è sempre un inizio però uno quello con i prodotti miracolosi e con tutte le diete si porterà sicuramente all'inferno è inutile non ci voglio neanche girare troppo intorno perché vivere con un disturbo alimentare è vivere all'inferno non è vita e l'altra parte quindi noi la speranza la luce la forza il coraggio la tenacia inizia un percorso infatti un regalo inizia un percorso all'interno di te stessa e vedrai poi la vita come ti sorriderà cioè sembra pubblicità ma in realtà è così veramente nessuna prova non mi sono preparata nessuna prova da superare ma soltanto un percorso da fare e si inizia da noi grazie ragazzi per essere state con noi per aver rilasciato questa intervista e niente alla prossima siamo grazie 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 paola grazie a voi grazie 24 live sempre a disposizione per qualsiasi messaggio interessante come questo voi vogliate lanciare grazie 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 a tutti 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 grazie